E' un procedimento complicato. Due pubblici ministeri, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, condannati dal Tribunale di Brescia per rifiuto di atti d'ufficio alla pena di otto mesi di reclusione, benefici di legge, sospensione dell'Atena, pena non definitiva, per in sostanza non aver depositato delle prove favorevoli alle difese e rifiuto di atti d'ufficio in un processo importante che si è concluso nel 2021 a Milano, la maxi tangente eni oltre un miliardo di dollari, blocco petrolifero in Nigeria, dove poi però tutti gli imputati sono stati assolti. Ora, in questo processo i giudici di Milano hanno ritenuto incomprensibile la scelta dei pubblici ministeri di non depositare delle prove di cui disponevano favorevoli alle difese. Prove che sono state poi ovviamente scoperte nel corso di questo procedimento e che hanno portato alla soluzione degli imputati. Prove che i pubblici ministeri dovevano conoscere sin dal 2017 e che forse avrebbero portato non ad un rinvio a giudizio, quanto magari ad un'archiviazione di questa indagine. Questo comportamento viene ritenuto un reato perché ricordo che comunque l'accusa o il pubblico ministero nelle sue investigazioni, nelle sue indagini a carico di un indagato, di un imputato successivo, devono ricercare prove, chiaramente a carico dell'indagato, ma anche prove favorevoli allo stesso indagato. Bilanciare tutto questo e capire se procedere o meno. In questo caso i pubblici ministeri, pur sapendo, così si comprende, hanno proceduto comunque con l'esito poi disastroso di questa soluzione e di un processo a loro carico che, ripeto, è solo una sentenza di primo grado, quindi appello per chi ne avrà necessità.